Signori allora buonasera e facciamo il video direttamente così perché tanto in diretta non abbiamo lo stesso vantaggio che potremmo avere facendolo. Guardate che meraviglia! Belli! Guardate qui che cosa hanno fatto questi ragazzacci non so come altro chiamarli se non ragazzacci Buonasera! Volevo salutare? Salutiamo anche i ragazzi che ci stanno osservando da qui. Guardate che bello! Che cosa hanno cominciato questi ragazzacci! Guardate qui! Guardate che meraviglia! Ci hanno fatto qualcosa di veramente eccezionale! Adesso andiamo un po' più sopra! Mi ha fatto mai perciò vedere! Tant'e che cosa hanno fatto qui! Tutto fatto con i tappi di plastica guardate! Tutto fatto con i tappi di plastica eh! Guardate che spettacolo! Tutta plastica riciclata eh! Questa è tutta plastica guardate! con i tappi! Con i tappi! Questa è tutta plastica riciclata, utilizzata guardate qua! Sai che bello! In frattempo passa anche... una barchetta bravissimi questi ragazzi guardate che bravi hanno fatto qualcosa di veramente eccezionale eccezionale veramente bello ma bello 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 guardate qua guardate intanto è tutto fatto a male io vi voglio far vedere che tutto realizzato a mano guardate guardate che bello tutto guardate qui guardate che bravi veramente bravi 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 guardate tutta plastica tutta plastica che poi viene utilizzata questi questi li sono visti un po' bellissimi adesso vi facciamo vedere anche di qua non vogliamo togliere il gusto anche agli altri guardate qua che cosa hanno fatto insieme con la plastica riciclata guardate che bello e qui abbiamo guardate qua ma c'era che abbiamo sono simpaticissimi sono veramente simpatici hanno quella simpatia che li rende unici guardate che belli guardate 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 qua sono veramente incantevoli Ecco, guarda che bella, questo è il mare di Santa Rastatia, a Fondi, facciamo una foto Qui stiamo sul ponte di Santa Rastatia, però il foglio l'avete visto mille volte, quindi possiamo anche ovviare. Torniamo un po' indietro, nel frattempo fermiamo quel video. Alla prossima, ciao!